L'Onigo, i carabinieri avrebbero individuato l'autore di tre furti ai danni di persone anziame. Denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato, l'uomo di 68 anni residente nel Bognognese faceva parte di una banda composta con altre due persone su cui i militari stanno ancora indagando. I fatti risaggono i primi mesi dell'anno. La zona interessata è quella di Sarego. Le vittime sono tre pensionati di età compresa tra i 71 e i 92 anni. L'indagato si presentava come appartenente proprio all'arma dei carabinieri che lo ha scoperto. Un modo per carpire la fiducia degli anziani e farsi aprire la porta delle proprie abitazioni. Con alcuni espedienti è riuscito a farsi indicare i posti dove i derubati depositavano oggetti in oro e contanti. 20.000 euro il valore del bottino che la banda è riuscita ad accumulare. Le indagini dei militari stanno verificando anche se la banda di malviventi abbia compiuto altri colpi in diverse località venete.